Che differenza c'è tra una tinta permanente e un gloss? L'ammoniaca serve davvero? Posso tingere i capelli di un colore più chiaro del mio? È vero che le tinte sono cancerogene? E in gravidanza? La posso usare in gravidanza? Queste sono solo alcune delle domande che ho ricevuto in queste settimane, quando l'isolamento forzato ha portato molte persone che prima si recavano regolarmente dal parrucchiere per fare la tintura ai capelli ad arrangiarsi a casa da soli. Quindi pensato di dedicare un paio di video alle tinture per capelli. In quello di oggi ci concentreremo sulla chimica. Capiremo come funzionano le tinture e cercheremo di estrarre qualche trucchetto utile per farsele da soli in casa. Nel prossimo video invece ci concentreremo sui problemi, dalle allergie all'analisi della correlazione fra tinture e tumori, anche dei rischi legati alla gravidanza e ad altre condizioni della vita. Quindi, se siamo pronti, infiliamo i guanti e cominciamo. Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice Mautino e in questi video parliamo di cosmetici ma visti con gli occhi della scienza. Quando parliamo di tinture per capelli ci riferiamo a tre categorie di prodotti. Quelle che colorano i capelli dall'esterno, quelle che entrano in profondità e li colorano dall'interno e poi la classica via di mezzo che fa un po' e un po'. Per capire come funzionano dobbiamo imparare a conoscere un po' meglio i nostri capelli. Se li osserviamo al microscopio elettronico, vediamo che all'esterno sono ricoperti da scagliette disposte come le tegole di un tetto. Queste scagliette proteggono il capello impedendo all'acqua di penetrare all'interno e quando sono disposte in maniera ordinata riflettono la luce in maniera uniforme e danno quell'effetto bello di lucentezza tipico dei capelli delle pubblicità. Queste scagliette però non sono incollate al capello, possono aprirsi e chiudersi, un po' come se fossero delle finestrelle basculanti. Il segnale per farle aprire o chiudere sono le variazioni di pH. Le sostanze acide le fanno tenere ben chiuse, le sostanze alcaline, quelle basiche, le fanno aprire. Questo per esempio è il motivo per cui i balsami hanno un pH acido oppure perché il cosiddetto risciacquo acido con l'aceto come la nonna oppure con l'acido citrico dona lucentezza ai capelli. Al contrario uno shampoo basico oppure delle sostanze come per esempio il bicarbonato che alzano il pH di una soluzione portano le scagliette ad aprirsi e i capelli sembreranno opachi. Quest'azione ricordatevela perché è alla base delle tinture. Al di sotto delle scaglie troviamo il fusto e ancora più all'interno il midollo. Qui ci sono le fibre di cheratina che costituiscono il grosso del capello ma anche le molecole di melanina, anzi delle varie forme di melanina che miscelate insieme donano il colore naturale dei nostri capelli. Già perché la melanina non è responsabile solo della nostra abbronzatura ma anche del colore di tutti i nostri peli. Sulla base di questa struttura come dicevamo abbiamo tre possibilità. Partiamo dalla soluzione più semplice cioè quella di colorare i capelli dall'esterno. Questa è la categoria delle tinture temporanee che troviamo sugli scaffali come creme oppure spray con denominazioni del tipo washout oppure ritocco perfetto. Queste sono le classiche tinture che si fanno a carnevale oppure quando si vuol fare un colore un po' pazzo per vedere come va senza però avere le conseguenze di avere un colore a lungo termine oppure quando vogliamo ritoccare velocemente la ricrescita. Questi prodotti se ci fate caso sono già colorati e si limitano a depositare il colore sull'esterno del capello. Per queste tinture si usano dei coloranti con un pH acido che tendono a legarsi in maniera debole con la cheratina dei capelli e proprio per questo vengono lavati via facilmente. Sul fronte opposto delle tinture troviamo quelle permanenti cioè quelle che rimangono lì. Questa è la categoria più diffusa, più richiesta, rappresenta circa l'80% del mercato delle tinture. Ma queste tinture sono anche le più complicate perché prevedono che avvengano delle reazioni chimiche all'interno della miscela ma anche all'interno dei nostri capelli. A differenza delle tinture temporanee, quelle permanenti non vengono lavate via. Come fanno? Beh, il segreto è nelle due boccettine, quelle che troviamo all'interno delle confezioni di queste tinture. Vi siete mai chiesti perché siano proprio due e ci venga chiesto di miscelarli insieme? Non sarebbe più comodo avere una boccetta unica già miscelata? E vi siete mai accorti che la miscela una volta creata e agitata per bene si scurisce man mano che passa il tempo? Una delle due, quella che viene chiamata crema colorante, troviamo praticamente tutti gli ingredienti tipici delle tinture. Abbiamo l'ammoniaca e i precursori dei coloranti. Nell'altra boccetta invece di ingrediente ne abbiamo praticamente solo uno. Meglio. Se leggete la lista degli ingredienti ne trovate parecchi. Ma si tratta per la maggior parte di additivi oppure di sostanze che servono a dare la consistenza oppure a conservare il prodotto. Il vero ingrediente di quello che viene chiamato comunemente latte rivelatore è uno solo ed è l'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata deve starsene ben separata dai coloranti presenti nella crema colorante perché appena entrano in contatto parte la reazione che porta alla rivelazione del colore. Ma andiamo con ordine. Quando distribuiamo la miscela che abbiamo prodotto sui nostri capelli la prima protagonista a entrare in campo è l'ammoniaca. L'ammoniaca è una sostanza alcalina che alza di molto il pH della soluzione e alzando il pH fa aprire le scagliette, quelle finestre basculanti che ricoprono i nostri capelli. Ricordate che avevamo detto che si muovevano in base alle variazioni del pH? Ecco, l'ammoniaca ha proprio questa funzione qua, farle aprire. A questo punto l'ammoniaca esce di scena ed entra in campo l'acqua ossigenata che prende in mano la situazione e coordina tutte le reazioni da qui in avanti. Per prima cosa l'acqua ossigenata va dalla melanina e fa come Ivan Drago con Rocky Balboa, va lì e la spiezza in due. Vabbè, ci ho provato dai. Perché lo fa? Lo fa perché spezzandola rompe la sua struttura chimica che è quella che le permette di riflettere la luce in un certo modo e quindi rompendola la spegne, la decolora. Questo passaggio è fondamentale perché una decolorazione dei capelli permette una colorazione più uniforme, oltre a permettere di tingersi i capelli con toni più chiari dei propri, per esempio. Subito dopo aver fatto la gradassa con la melanina, l'acqua ossigenata va dal primo gruppo di precursori dei coloranti, quelli che vengono chiamati intermediari primari. La più famosa della famiglia, ma anche la più temuta, è la parafenilendiammina, la prima a essere scoperta. Queste molecole non sono colorate, come possiamo facilmente vedere osservando la crema colorante che è bianca. Si colorano grazie all'azione un po' da bulla dell'acqua ossigenata che va da loro e le ossida, cioè strappa via elettroni alle loro molecole e di fatto ne trasforma la struttura. Questa trasformazione noi la vediamo perché? Perché la miscela si colora. Questo gruppo di molecole, gli intermediari primari, dà la base del colore e le proporzioni tra loro e l'acqua ossigenata danno colori più scuri oppure più chiari. Se abbondiamo con gli intermediari primari avremo una tintura più scura, se invece abbondiamo con l'acqua ossigenata avremo colorazioni più chiare. Questo colore però non basta ancora perché è un po' piatto. Gli manca quello che in gergo viene chiamato il tono. Il tono è dato da un altro gruppo di precursori dei coloranti, chiamati accoppianti. Queste molecole, sottoposte all'azione dell'acqua ossigenata, modificano sì lievemente la loro struttura, ma si sentono immediatamente attratte dagli intermediari primari, vanno dagli intermediari primari e li abbracciano fortemente. L'unione di intermediari primari e accoppianti porta alla formazione di una molecola molto grossa. Questa molecola avrà un colore di fondo che dipende da quale intermediario primario è stato scelto e poi dei toni che dipendono dagli accoppianti utilizzati. Di accoppianti ce ne sono di tre categorie principali, quelli nei toni del rosso, quelli nei toni del giallo verde e quelli nei toni del blu. In una confezione ne potete trovare anche dieci diversi e tutti assieme contribuiscono a dare sfumature, riflessi e una colorazione che non sembra data col pennarello. Sul piano chimico questa reazione è molto affascinante perché non si limita a produrre colore, a sviluppare colore, ma comporta anche una trasformazione fisica perché passa da molecole molto piccole a molecolone belle grosse. Questa trasformazione fa sì che le nuove molecole prodotte, colorate, non riescano più a uscire dal capello, rimangono intrappolate all'interno delle fibre di cheratina. L'idea geniale alla base delle tinture permanenti è proprio questa, cioè quella di far penetrare delle molecole molto piccole che riescono a infilarsi nei buchi lasciati dalle fibre di cheratina e poi trasformarle all'interno del capello per ottenere delle molecole molto grandi che rimangono bloccate lì. Poi ditemi se la chimica non è bellissima. Al termine del tempo di posa il risciacquo porta via tutti i residui di coloranti che non si sono legati, porta via l'ammoniaca che a questo punto viene sciacquata via con l'acqua e se tutto ha funzionato come doveva funzionare ci ritroveremo con un colore di capelli diverso da quello di partenza, possibilmente quello desiderato. Però ancora un passaggio che è fondamentale ed è quello rappresentato dal terzo contenitore che troviamo all'interno delle confezioni delle tinture, il cosiddetto trattamento riparatore. Si tratta sostanzialmente di un balsamo che ha un pH acido che ha la funzione di andare a richiudere per bene le finestrelle basculanti, cioè le scagliette e quindi da un lato di rendere i capelli belli lucenti ma dall'altro di tappare bene il capello e di impedire un'eventuale fuoriuscita del colorante. Ho lasciato per ultima la via di mezzo, cioè quella delle tinture semi-permanenti, perché di fatto utilizzano entrambe le tecniche che abbiamo visto precedentemente, cioè quelle delle tinture temporanee e delle tinture permanenti. Sono composte da coloranti che vanno a depositarsi all'esterno del capello, ma hanno anche un pH basico che permette ad alcuni dei coloranti di penetrare all'interno del fusto. Contengono poca acqua ossigenata, quindi non riescono a decolorare, quindi è difficile riuscire a ottenere colorazioni più chiare della propria e non sfruttando appieno la reazione che porta alla creazione di molecole molto grosse, sono meno permanenti delle tinture permanenti. Le trovate sugli scaffali con indicazioni come 20, 24, 28 lavaggi oppure spesso come gloss o come riflessanti, perché i coloranti tendono a sbiadire nel tempo, ad essere lavati via con gli shampoo. Quelli che vi ho appena descritto sono i processi base, ma l'effetto finale dipende da molti altri fattori. Il colore naturale dei capelli, per esempio, è vero che le tinte permanenti prevedono un passaggio di decolorazione, ma non è una decolorazione totale, per la quale servirebbe molta acqua ossigenata. Quindi la colorazione finale sarà sempre una mediazione tra il colore che viene sviluppato dalla tintura e ciò che rimane della melanina all'interno dei nostri capelli. Questo lo dico per la mia amica Serena, che tutte le volte si lamenta di non avere la tintura dello stesso colore di quello che trova sulla scatola. Sere, dipende dalla tua melanina. Attenzione anche a fare aggiunte oppure a paciugare un po' con il contenuto delle due boccette. Aggiungere acqua ossigenata, per esempio, come alcuni fanno, può sì decolorare di più i capelli, però ha delle controindicazioni. Perché se rimane acqua ossigenata libera all'interno del capello, questa va a comportarsi come si comporta all'inizio di tutta la reazione con la melanina, cioè va dalle nostre molecole coloranti e le spezza in due, decolorandole. Quindi i capelli man mano sbiadiranno. Questo è il motivo per cui all'interno delle tinture si trovano degli antiossidanti, che vanno a neutralizzare l'eventuale acqua ossigenata rimasta libera all'interno dei capelli. Se però ce la aggiungete voi, non è che possono fare i miracoli, eh? Tra gli altri fattori che possono influenzare la buona riuscita di una tintura, c'è anche l'acqua utilizzata. Acque particolarmente ricche di metalli possono andare ad interferire con la reazione chimica di formazione delle molecole coloranti e quel che è peggio è che possono far virare il colore verso toni, per esempio, verdi oppure azzurri. Anche qui, Serena, ti ricordi di quella volta che ti sei sciacquata la tinta con l'acqua che avevi usato per far bollire le zucchine? Ecco, non farlo più. Per tutti gli altri, se vedete che vengono fuori dei colori strani, beh, valutate la possibilità di utilizzare un'acqua diversa. Anche la temperatura dell'acqua, però, è importante. Avrete notato che sulle istruzioni delle tinture c'è scritto di sciacquare con acqua tiepida, non calda, tiepida. Questo perché il calore facilita l'apertura delle finestrelle e quindi un'acqua troppo calda va a interferire con l'azione di chiusura data dal trattamento riparatore, quindi dal balsamo a pH acido e quindi può facilitare la fuoriuscita di colorante. Infine, mastammoniaca serve davvero? Possiamo farne a meno? La risposta è l'ammoniaca serve. Se vogliamo avere una tinta permanente che non venga sciacquata via con i lavaggi, dobbiamo riuscire a far penetrare all'interno del capello i precursori dei coloranti. E per farlo abbiamo bisogno di sostanze che abbiano un pH basico. L'ammoniaca è fra queste, anzi è la più famosa ed utilizzata. Le tinture senza ammoniaca contengono delle sostanze come per esempio l'etanolammina che hanno la stessa identica funzione dell'ammoniaca. Puzzano un po' meno e quindi ci dà l'idea che siano meno tossiche. Ma di tossicità e di sicurezza delle tinture ne parliamo nel prossimo video. Per oggi la chiudo qui. Spero di avervi raccontato delle cose interessanti e spero anche utili. Vi ricordo che queste informazioni le ho estratte dal mio ultimo libro, La scienza nascosta dei cosmetici che è uscito a gennaio del 2020 per chiare lettere. Se vi è piaciuto il video condividetelo, se avete delle domande scrivetemele qua sotto nei commenti e seguitemi sui miei canali social per tutti gli aggiornamenti quotidiani. Alla prossima e riguardatevi!